La prima cosa che faccio quando arrivo è vado al mare, vado a vedere il mare, è la cosa che mi manca di più Beh, il momento più bello? Beh sì, a me Achille Lauro mi ha fatto morire Achille Lauro Lui può fare quello che vuole, cioè secondo me è giusto così No, non mi è piaciuto Prova, prova, uno, due, tre, prova, 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 prova La situazione è molto complicata come potete immaginare a Wuhan Disponiamo anche la chiusura di tutte le attività commerciali Il Ciro è stata una delle prime cose che abbiamo fatto, la pedonalizzazione per farla vivere con il gazebo, i tavolini I cittadini sono invitati a rispettare l'obbligo di restare in casa Che ci fate a Brooklyn? Siamo i ragazzi di Pazzolotti Biles Io sono Pasquale, vi ruvo di Puglia E io sono Vittoria, di Bitorto Adesso siamo a nord dello Yucatan, a circa 300 km di Cancun Limitare al massimo i contatti sociali e di contattare il proprio medico curante Mi è preso il panico Sono sicuro che ce la faremo, ci riusciremo Dobbiamo avere fiducia E recupereremo tutto quello che abbiamo fatto in questi anni Ora rispettiamo le indicazioni, le prescrizioni che ci arrivano dalla cabina di regia Buon pomeriggio, buon pomeriggio ragazzoni, bentornati in live Cioè fare i video dove canto e ballo nel salotto di casa mia è una roba che proprio c'è E ho fatto anche delle dirette su Instagram e continuerò a farle Dica devo chiamare la polizia, le fidanzate devo chiamare Con la mazza degli uomentani, andate per la cassa Da lui si impara molto a stare in quarantena Lo amo cucinare Spaghetti integrali, tonno al naturale C'è un piatto completo Proteine, carboidrati, verdura, c'è tutto Grassi, gall'olio, ovviamente extra d'argine d'oliva Non vedo ne che permettono di maltrattare i vicino urbani Che è stato fatto per fare il lavoro loro Per salvare la vita voi e le persone che vengono a fare la fine Non va bene Dovete chiedere scuse i vicino urbani Stanno qua a fare il lavoro loro A rischiare il culo le persone Ragazzi ma ci dobbiamo mascherare secondo voi? Quindi viva il Pride, viva l'amore Abbasso tutte le discriminazioni Ognuno sia libero di vivere la sua vita Come vuole Cioè sono scioccato da questa cosa Mai avrei pensato di mangiare un gelato di zafferano iraniano Con i pistilli di zafferano dentro Viva in Italia, mi senti italiana? Il sogno del cassetto è lavorare in finanza e quindi magari anche andare nel nord Italia Io mi trovo molto bene a Bari È una città che ho sempre amato Ci sono delle regioni e sono la Puglia e la Sicilia Sospendere la didattica in presenza in tutte le scuole della Puglia Non so se la ricordate Il Grinch voleva rubare il Natale ad un paese Battere questo penalty Fisca il signor Ricci Parta il tenuccio Il tiro e la palla in rete Sospendere la palla in rete Sospendere la palla in rete Braccio fuori dal finestrino Grazie a tutti